Una invisibile energia scorre dentro ogni cosa. Anima il mondo e muove l'uomo. Io mi ricordo un particolare, ci mettiamo in macchina, perché noi quando prendiamo le decisioni importanti, chissà perché, ci mettiamo in macchina così non ci disturba nessuno, ci facciamo questo giro senza senso, solo per parlare. È energia ciò che dà vita alle nostre ambizioni quando diventiamo in grado di governarla. Dopodiché, quando siamo rientrati, abbiamo detto ok, facciamo un prodotto che noi conosciamo bene, e quindi il prodotto elettrico con tutti i suoi componenti. È nata così la Contact Italia. Contact Italia opera nel settore dell'impiantistica elettrica e degli impianti fotovoltaici. Più nello specifico, Contact Italia fornisce all'installatore di impianti elettrici tutto ciò di cui ha bisogno per poter giuntare, collegare, terminare cavi elettrici, sia di distribuzione che cavi per impianti speciali. Nel settore invece degli impianti fotovoltaici, Contact Italia è in grado di fornire all'installatore tutto ciò che occorre per poter sostenere i pannelli fotovoltaici, sia per l'impiego civile che per l'impiego industriale. Continuità, unione, eccellenza sono il principio del nostro agire. Abbiamo, all'epoca, messo a frutto tutto quello che era il bagaglio di esperienze tecniche di un gruppo che ormai dal 33 lavora sull'impiantistica. La nostra è una famiglia di installatori elettrici. Da più generazioni, sono tre generazioni, adesso ci sono i nostri fedi, ci sarà la quarta generazione di installatori elettrici e ci siamo formati in campo. Tutti noi abbiamo lavorato in cantiere, quindi sappiamo quali sono i problemi che gli elettricisti e gli installatori in genere devono affrontare ogni giorno. Lo sappiamo, quello che oggi facciamo per i nostri clienti è un omaggio ai nostri padri. Per noi dare sul mercato un prodotto funzionante, un prodotto testato, un prodotto sicuro è fondamentale. Quando noi pensiamo a un prodotto facciamo sempre una ricerca molto accurata. Lo staff di tecnici, ingegneri, lavora sul prodotto nel pieno rispetto innanzitutto delle normative vigenti. Il prodotto poi, prima di essere messo sul mercato, viene certificato dall'IMQ. Noi ci facciamo vanto di questo perché l'IMQ è sinonimo di qualità e di eccellenza. Progettiamo guardando al futuro, ricordandoci da dove veniamo. L'avanzamento tecnologico per Contact Italia rappresenta uno dei fattori fondamentali. Tuttavia un fattore di gran lunga più importante per l'azienda è di certo il fattore umano. Il team, infatti, per Contact Italia rappresenta un fil rouge tra il mondo esterno e l'azienda stessa. Diamo valore alla competizione perché ci orienta al miglioramento. Oggi Contact Italia si confronta ai più alti livelli di mercato, sia nazionale che internazionale. Noi operiamo in un settore dove ogni cliente è sempre più attento alla qualità e alla sicurezza di ogni singola installazione. Un tempo ci misuravamo con pochi concorrenti e era meno difficile riuscire a vincere il confronto. Oggi dobbiamo confrontarci con prodotti evoluti, non sempre di bassa qualità. E competiamo con ciò che di meglio abbiamo costruito. I fattori e le pratiche che resistono nel tempo sono la ricerca e il consolidamento dei rapporti con la distribuzione. Proprio per questo il nostro obiettivo è diventare un partner fondamentale, se vogliamo indispensabile, per tutti gli installatori di impianti elettrici e fotovoltaici. Noi puntiamo sull'eccellenza. Quindi noi con Banto ci fregiamo del Made in Italy perché i nostri prodotti sono realmente costruiti in Italia, sono progettati, sviluppati e costruiti a casa nostra, proprio qui nei nostri stabilimenti. Avere alle spalle un'azienda che interagisce col cliente sulla progettazione, sul modo di utilizzare, su come semplificare e quindi risparmiare sulla mano d'opera, sul tempo impiegato, è fondamentale. L'eccellenza è una condizione di equilibrio che poggia sul nostro valore più grande, le persone. Come valorizziamo questa risorsa? In un modo facile ma efficace, cioè mettendo insieme quella che è l'esperienza dei professionisti che da sempre sono all'interno della famiglia Contact Italia e dall'altro la freschezza di pensiero è un approccio innovativo di quelle che sono le nuove generazioni di professionisti che coltiviamo già all'interno. La Contact Italia è un divertimento, è avere la soddisfazione del cliente che ci dice bravi, il prodotto mi piace, il prodotto è quello che noi veramente volevamo e mette a confronto gli altri prodotti, le altre aziende e fa la differenza naturale. Ebbene è questo il vantaggio strategico alla base della nostra squadra. Lavoriamo per fare in modo che l'energia possa fluire e animare i progetti dell'uomo.